Sì, subito, sì. Ti insegna a fare i sushi? Con gli uccellini! No, no, qui non ce l'ho, no. Aspetta, lascia fare a me. Da qualche parte l'avrò messo. Che bello! Tante grazie! Però spero che continui a studiare. Sì. Mi raccomando. Ti farò i sushi? Con gli uccellini! Che tipo? Non è lui, mi sembra strano. Quando non lo è? Mi riesce tutto male. Ma ora cambierò il destino. Farò in modo... Farò in modo che un'ombra nera regni in questa casa. Sì! L'ombra del mare! figliola, stai delirando per la febbre. No, deliro per la rabbia. Deliro per la rabbia. Ed è questa la forza che mi serve per poter essere felice. Tesoro mio, potrei essere felice dopo. Andiamo a lettuccio, eh? Perché adesso hai tanta febbre e devi calmarti. Andiamo. No, 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 dopo no. Adesso! Adesso mi voglio occupare. E ora la voglio eliminare. Adesso! 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 Che depressione! Non entra nessuno. C'è sempre meno gente. Qui non si vede un'anima. Non è possibile. Sì, Flor, dobbiamo trovare il modo di fare qualcosa. Credo che bisogna metterci un po' di brio. Manca energia, non so. Quando entri in una palestra devi sentire che ricarichi le batterie a full, non è vero? Sì, sì, dobbiamo dargli una scossa. Sì, una scossa. Non riesco a darla alla mia vita. Come faccio a darla a questo posto che non... Beh, forse dobbiamo rilassarci perché se ci deprimiamo è finita. Dobbiamo fare uscire il classico coniglio dal cilindro, qualcosa di particolare. Io avrei avuto un'idea e penso che possa convenire sia a voi che a me. Quale? Vedi, io ti posso comprare la licenza del bar e così diamo una scossa a questa palestra. Oh, ma che... Sì, sono un splendido idea. Sei un amore, comprare una licenza di un bar dove non entra nessuno, lo fai perché mi vuoi bene, vero? Flora, è un investimento per il futuro, per la mia vita. Questo posto io lo rimetto su, ricorda le mie parole, facciamola fare, sì o no? Sì, benissimo. Io adesso vado a farmi un tuffo, mi faccio una nuotata, mi faccio bella e poi si spieghiamo tutto, d'accordo? Questo posto tornerà a galla. E la faremo! Questo è l'atteggiamento che vogliamo noi giovani, questo vogliamo. Olivia, vuoi venire con me a vedere le cose che ho comprato? Ovvio. Andiamo faccia? Non è venuto, non è venuto, non è venuto, che vuoi? Dammi la macchinetta. Quale macchinetta? Non fare lo scemo, me l'hai chiesta a casa e io ti ho detto di no e tu l'hai presa lo stesso, quindi andiamo a prenderla, devi ridammela. Eccolo là. Eccolo. 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 Ah! Qualcuno avrà un problema Perdí mi vida, mi alma, mi confianza Tu me pagaste con moneda falsa Perdí mi piel, mis noches de locura Perdí mi tiempo, no me quedan dudas Anda y dile a tu cariño Que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño Que hoy mismo juré no sufrir por amor De tus caprichos estoy cansada Y de tu vida no quiero nada Ya tus narices no me hacen falta Yo quiero amor, no solo palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!